Robi! 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 Ehi! Ma cosa stai facendo? Mi sto allenando! Ma come ti stai allenando? C'è da preparare tutto per il matrimonio, mancano pochi mesi. Non posso finire l'allenamento. No, c'è la partecipazione, le bomboniere, no, no, devi muoderti, adesso basta. Dai, un attimino, dai. No, te hai gli allenamenti, muoviti. Ne hai rotto che devo fare sempre tutto io, eh? Allora, 199, 200, 201. Amore, ma se invitassimo il mio ex collega, quello del 2011? Dai, amore, non lo vedi più, no? Siamo già 210 persone, tagliamo, tagliamo. Allora... E come facciamo a invitare la sorella della zia dalla mamma di mia mamma della Sicilia? Mi è venuta un'idea. E come facciamo a invitare la sorella della zia dalla mamma di mia mamma di mia mamma di mia mamma di mia mamma. Ciao a tutti, ci vediamo il 29 novembre 2000... 29 novembre? Vieni qua, sbagli sempre tutto. Ci vediamo il 26 dicembre 2021... Ho sbagliato di poco, eh. 26 dicembre 2021, se avete ricevuto questo messaggio è perché siete stati invitati al nostro matrimonio. Un saluto! Ciao! 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 Grazie.